Studenti, famiglie e insegnanti a scuola di energia. Torna per l'ottava edizione, Energicamente, il progetto di Estra, realizzato in collaborazione con Lega Ambiente, che dopo aver aderito alla didattica digitale, è oggi una piantaforma a cui possono partecipare le scuole di ogni regione d'Italia. Sono già 17.000 gli studenti italiani coinvolti in questo percorso didattico. Energicamente è un progetto in linea con le politiche della regione toscana sull'energia. Sia perché da un lato noi stiamo lavorando molto sul piano della pianificazione, abbiamo immaginato anche una toscana green al 2050, totalmente affrancata dalle fonti tradizionali fossili, sia perché con l'agenzia energetica che ha preso il via dai primi di gennaio vogliamo anche noi entrare nelle case dei cittadini. Il progetto conta su 907 docenti coinvolti, 612 squadre, circa 17.000 studenti e 34.000 famiglie raggiunte. Si va dall'elementare alle medie superiori e il progetto è tutto digitale. Basta che la scuola si iscriva al sito energicamenteonline.it e da lì gli insegnanti insieme ai propri studenti possono fare un percorso didattico che caratterizza l'energia sotto vari aspetti. Quella rinnovabile, altre nozioni scientifiche sul mondo dell'energia, l'efficienza energetica, l'internet delle cose, la riduzione dei consumi, quindi non solo consigli utili per risparmiare a casa, che va sempre bene, ma anche informazioni didattiche nuove, importanti, moderne, collegate anche all'innovazione e alla tecnologia. Energicamente è un percorso didattico, ma anche alternanza scuola-lavoro, formazione per gli insegnanti e due concorsi, energia di squadra e concorso La ricetta dell'energia. Per Legambiente è cruciale e strategico parlare di energia, soprattutto oggi, con una crisi climatica che si aggrava. Come Legambiente non possiamo che rimarcare con orgoglio e con piacere il fatto che una grande azienda della nostra regione, del nostro paese, si premuri di seminare, vorrei dire, condizioni di sostenibilità e di futuro nei ragazzi, tra i ragazzi, nelle scuole, che è veramente poi il futuro del nostro paese. Grazie a tutti.